0, 2, 1 Ok, 0 Sono il prototipo al contrario di uno in queste zone Dove essere onesto e vincente è una contraddizione Dove perché vuoi ragionare si va senza azione Dove li devi ringraziare se fai una canzone Dove li devi ringraziare per l'ascolto Un riscontro, un commento corto, una condivisione Io sono grato a tutti, sono tutto vostro Ma ascoltarmi sai non equivale Ma a farmi un favore che se ascolti davvero dovrebbe dire Che un po' ti lascio far cosa è quello che riesco a esprimere Un po' d'aiuto nei momenti prima di dormire Quindi grazie a te, tutti gli altri cosa cazzo mi volete dire Faccio il rap e faccio il prof, zero autosport Ammortizzato i sogni nelle molle delle shocks Te l'ho detto che lo faccio pesante, lo faccio al top Dopo Johnny Enzino e Marra, io il primo fuori dal podio Sono pure umile per questo modio Ma voglio pensare andrà meglio dopo La positività di sto tempo è un po' ambivalente Ascoltate a malinze, può darsi capo in la mente Ascoltate a malinze, può darsi capo in la mente